Capitolo 43 Quando eravamo piccoli e la casa era piena di gente come mio padre, il signor Fisher e altri amici, Jeremiah e io dividevamo il letto e Conrad e Steven facevano altrettanto. Mia madre veniva a rimboccarci le coperte. I ragazzi fingevano di essere troppo grandi per quel genere di cose, ma io sapevo che ne erano contenti tanto quanto me. Era bello sentirsi accoccolati come un ragno nel buco, stretti come involtini. Io me ne stavo a letto ad ascoltare la musica che saliva dal piano di sotto e Jeremiah e io ci raccontavamo storie di paura finché non ci addormentavamo. Lui era sempre il primo ad addormentarsi. Io cercavo di tenerlo sveglio con qualche pizzicotto, ma non funzionava. L'ultima volta che avvenne fu forse l'ultima occasione in cui mi sentii davvero al sicuro, come se tutto fosse a posto e tranquillo. La sera in cui i ragazzi litigarono, bussai alla porta di Jeremiah. Avanti, mi disse. Era sdraiato sul letto a fissare il soffitto, con le mani dietro alla testa. Aveva le guance bagnate e gli occhi lucidi. Quello destro era violaceo e si stava gonfiando. Non appena mi vide si strofinò gli occhi con il dorso della mano. Ciao, dissi. Posso entrare? Si tirò su. Sì, va bene. Lo raggiunsi e mi sedetti sul bordo del letto con la schiena contro la parete. Mi dispiace. Iniziai. Avevo studiato cosa dire e come dirlo per fargli capire quanto fossi dispiaciuta, ma cominciai a piangere e rovinai tutto. Lui allungò una mano e mi massaggiò goffamente la spalla. Non riusciva a guardarmi e questo facilitò in un certo senso le cose. Non è giusto. Farfugliai e poi ricominciai a piangere. Jeremiah disse. È tutta l'estate che ci penso. Che questa probabilmente sarà l'ultima. Questo è il luogo preferito di mamma, sai. Volevo che trascorresse una vacanza perfetta, ma Conrad ha rovinato tutto. È andato fuori di testa. Mamma è così preoccupata e questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno. Di preoccuparsi per Conrad. A parte mio padre, Conrad è la persona più egoista che conosca. Anche lui soffre, pensai. Ma non lo dissi perché non sarebbe servito a nulla. Mi limitai ad aggiungere. Vorrei averlo saputo. Sarebbe stato diverso. Jeremiah scosse il capo. Lei non voleva che tu lo sapessi. Non voleva farlo sapere a nessuno di noi. Desiderava che andasse così e noi abbiamo finto. Per lei. Avrei voluto parlartene invece, forse sarebbe stato più facile. Si asciugò gli occhi con la maglietta e capì che si sforzava di non lasciarsi abbattere, di mostrarsi forte. Allungai una mano per abbracciarlo e lo sentii tremare come se dentro di lui si fosse spezzato qualcosa. Cominciò a piangere, ma in maniera sommessa. Piangemmo assieme le spalle tremanti per il peso della situazione. Piangemmo in quel modo per lungo tempo. Quando smettemmo, Jeremiah mi lasciò andare e si asciugò il naso. Avvicinati, dissi. Lui si avvicinò e io allungai le gambe di fianco a lui. Dormo qua, va bene? Non era una domanda. Jeremiah annui e dormimmo in quel modo, vestiti sopra la trapunta. Anche se eravamo cresciuti, la sensazione fu la stessa. Dormimmo faccia a faccia, come un tempo. La mattina dopo mi svegliai presto, aggrappata al bordo del letto. Jeremiah era spaparanzato e russava. Lo copri con la mia parte di trapunta, così che fosse rimboccato come in un sacco a pelo. Poi me ne andai. Tornai verso la mia stanza e avevo ormai la mano sulla maniglia quando sentii la voce di Conrad. Buongiorno, disse. Capii subito che mi aveva vista uscire dalla camera di Jeremiah. Mi girai lentamente verso di lui. Aveva ancora i vestiti della sera prima, proprio come me. Era scompigliato e barcollava leggermente. Sembrava sul punto di vomitare. Sei ubriaco? Si strinse nelle spalle con aria indifferente, ma aveva la schiena tesa e rigida. Con tono beffardo, disse. Non dovresti essere gentile con me adesso, proprio come lo sei stata con Jeremia stanotte? Apri la bocca per difendermi, per dire che non era successo niente, che avevamo soltanto pianto fino ad addormentarci. Ma non mi andava. Conrad non meritava di saperlo. Tu sei la persona più egoista che abbia mai conosciuto, dissi lentamente e di proposito. Lasciai che ogni parola forasse l'aria. Non avevo mai voluto ferire così tanto una persona in vita mia. Non riesco a credere di aver pensato di amarti. Conrad sbiancò, aprì la bocca e la richiuse, poi lo rifece. Non lo avevo mai visto a mutolire. Tornai in camera mia. Era la prima volta che riuscivo ad avere l'ultima parola con Conrad. C'ero riuscita. Lo avevo finalmente lasciato andare. Mi sentii libera. Ma la mia era una libertà pagata a un carissimo prezzo. Avevo il diritto di dirgli quelle cose in un momento in cui soffriva così tanto. Avevo qualche diritto su di lui. Conrad stava male e anch'io. Quando tornai a letto, mi misi sotto alle coperte e piansi ancora un po', pensando di non avere più lacrime da versare. Era tutto sbagliato. Come potevo aver trascorso l'estate a preoccuparmi dei ragazzi, del nuoto, dell'abbronzatura, quando Susanna era malata? Come avevo potuto? L'idea di vivere senza Susanna era inaccettabile, inconcepibile. Non riuscivo neppure a immaginarlo. Non riuscivo a pensare come sarebbe stato per Jeremia e Conrad. Susanna era la loro mamma. Quella mattina non mi alzai. Dormii fino alle 11 e poi rimasi a letto. Avevo paura a scendere al piano di sotto, affrontare Susanna e costringerla a vedere che sapevo tutto. Verso mezzogiorno, mia madre fece irruzione in camera mia senza neppure bussare. «È ora di alzarsi!» disse, contemplando il disordine. Prese un paio di pantaloncini e una maglietta e li ripiegò portandoseli al petto. «Non sono pronta per uscire dal letto», le risposi voltandomi dall'altra parte. «Ero arrabbiata con lei come se fossi stata ingannata. Avrebbe dovuto raccontarmelo, avrebbe dovuto avvisarmi. In tutta la mia vita non avevo mai creduto che mia madre potesse mentire e invece lo aveva fatto. Tutte quelle volte in cui pensavamo che fossero andati a fare compere o a un museo o a fare una gita non era vero. Erano andate all'ospedale dai dottori. Adesso capivo se solo me ne fossi accorta prima. Mia madre mi raggiunse e si sedette sul bordo del letto. Mi grattò la schiena e le sue unghie sulla pelle mi diedero una bella sensazione. Devi alzarti belli mi disse con delicatezza. Sei ancora viva e lo è anche Susanna. Devi essere forte per lei ha bisogno di te. Aveva ragione. Se Susanna aveva bisogno di me allora potevo rendermi utile. D'accordo dissi voltandomi a guardarla. Solo che non capisco come il signor Fisher possa lasciarla sola proprio nel momento del bisogno. Mia madre distorse lo sguardo. Lo diresse fuori dalla finestra poi di nuovo verso di me. È così che Beck vuole che vadano le cose e Adam è l'uomo che è. Mi fece una carezza. Non spetta a noi decidere. Susanna era in cucina a preparare dei muffin ai mirtilli. Era a china sul piano di lavoro a mescolare l'impasto in una grossa ciotola di metallo. Indossava una delle sue vestagliette da casa e mi resi conto che le aveva indossate per tutta l'estate perché erano ampie e comode. Nascondevano la magrezza delle braccia la sporgenza delle clavicole. Non mi aveva ancora vista e io fui tentata di correre via prima che mi notasse ma non lo feci non ci riuscii. Buongiorno Susanna dissi con una voce che non era la mia acuta e falsa. Sollevò lo sguardo e sorrise. È mezzogiorno passato ormai credo non si possa più dare il buongiorno. Buon pomeriggio allora. Mi soffermai sulla porta. Anche tu sei arrabbiata con me? Mi chiese con leggerezza. Aveva uno sguardo preoccupato però. Io non potrei mai essere arrabbiata con te. Le risposi raggiungendola da dietro e abbracciandola posai la testa nello spazio tra il suo collo e la spalla profumava di fiori. Aggiunse sempre con il suo tono leggero ti prenderai cura di lui vero? Di chi? Sentii le sue guance sollevarsi formare un sorriso. Lo sai? Sì sussurrai continuando a stringerla forte. Bene rispose sospirando ha bisogno di te non gli chiesi a chi si riferiva non era necessario Susanna promettimi una cosa tutto quello che vuoi promettimi che non te ne andrai mai te lo prometto rispose senza esitazioni sospirai di sollievo e poi sciolsi l'abbraccio posso aiutarti con i muffin certo l'aiutai a guarnirli con zucchero di canna burro e fiocchi d'avena li togliemmo dal forno troppo presto perché ci eravamo scocciate di aspettare e li mangiammo mentre erano ancora caldissimi e appiccicosi al centro seduta con lei a guardarla spalmare il burro sul suo muffin sentii che sarebbe rimasta al mio fianco per sempre in un modo o nell'altro finimmo per parlare del ballo studentesco Susanna amava parlare di questioni femminili diceva che io ero l'unica persona con cui poteva parlare di quel genere di cose mia madre non lo avrebbe mai fatto e neppure Conrad o Geremaia soltanto io la sua figlia finta mi disse assicurati di mandarmi le foto del tuo primo ballo fino ad allora non avevo mai partecipato a un ballo di fine anno nessuno mi aveva invitato e io non avevo invitato nessuno quindi l'unica persona con cui avrei voluto andarci non frequentava la mia scuola le dissi va bene indosserò il vestito che mi hai comprato l'estate scorsa quale vestito quello del centro commerciale quello viola per cui tu e la mamma avete discusso ricordi me lo nascondesti in valigia aggrottò le sopracciglia confusa non sono stata io a comprartelo Laurel sarebbe uscita dai gangheri poi il suo volto si rasserenò e sorrise deve essere stata tua madre mia mamma no non lo avrebbe mai fatto è proprio un gesto da lei ma non mi ha mai detto la mia voce si smorzò non avevo nemmeno preso in considerazione la possibilità che fosse stata lei a comprarmi il vestito non te lo ha detto perché lei non è quel genere di persona Susanna allungò il braccio sul tavolo e mi prese una mano tu sei fortunatissima ad averla come madre non scordartelo il cielo era grigio e l'aria era fredda presto sarebbe piovuto fuori c'era una tale nebbia che mi ci volle un po' per trovarlo alla fine ci riuscì era a quasi un chilometro di distanza e come prevedibile sulla spiaggia era seduto le ginocchia al petto non mi guardò quando mi sedetti al suo fianco continuò a fissare il mare i suoi occhi erano due abissi cupi e vuoti come cavità dentro non c'era niente il ragazzo che avevo creduto di conoscere non c'era più seduto là sembrava smarrito sentii quella vecchia spinta quella forza gravitazionale quella voglia di far parte di lui così che ovunque fosse stato io avrei saputo dove trovarlo e lo avrei fatto lo avrei trovato e riportato a casa mi sarei presa cura di lui proprio come desiderava Susanna fui io a parlare per prima mi dispiace tantissimo se solo lo avessi saputo ti prego smetti di parlare scusa sussurrai facendo per alzarmi dicevo sempre la cosa sbagliata non andartene mi disse Conrad e le sue spalle crollarono anche il suo volto se lo nascose tra le mani e tornò ad avere cinque anni come me sono incazzato da morire con lei disse facendo uscire ogni parola come fosse una raffica d'aria compressa chinò la testa le spalle abbassate finalmente piangeva lo osservai in silenzio mi sembrò di intromettermi in un momento privato che Conrad non mi avrebbe mai permesso di vedere se non fosse stato così abbattuto il vecchio Conrad odiava perdere il controllo la vecchia forza d'attrazione la marea che tornava a risucchiarmi continuavo a essere trascinata da quella corrente dal mio primo amore il primo amore mi riportava tutto questo a lui Conrad riusciva ancora a togliermi il fiato anche solo con la sua vicinanza la sera precedente avevo mentito a me stessa pensando di essere libera pensando di averlo lasciato andare non importava ciò che aveva detto o fatto non lo avrei mai lasciato andare mi domandai se fosse possibile alleviare il dolore di qualcuno con un bacio perché era quello ciò che volevo fare togliergli tutta la tristezza e farla uscire da lui confortarlo far tornare il ragazzo che conoscevo allungai una mano e gli toccai la nuca lui sobalzò lievemente ma io non tolsi la mano la lasciai poggiata presi a lisciargli i capelli e poi lo attirai a me e lo baciai in un primo momento in maniera timida poi Conrad iniziò a ricambiarmi e ci baciammo aveva le labbra calde e bisognose di affetto aveva bisogno di me la mia mente si svuotò a parte l'unico pensiero sto baciando Conrad Fisher e lui sta ricambiando Susanna stava morendo e io baciavo Conrad fu lui a smettere scusami disse con una voce ruvida mi toccai le labbra con il dorso delle dita di cosa non riuscivo a riprendere fiato non può succedere così si fermò poi riprese io penso sul serio a te tu lo sai solo che in questo momento non riesco ti dispiace ti dispiace stare semplicemente qua accanto a me a noi avevo paura ad aprire bocca gli presi la mano e gliela strinsi e quella mi parve la cosa più giusta che avessi fatto da lungo tempo restammo seduti sulla sabbia ma non nella mano come se lo avessimo fatto da sempre cominciò a piovere piano all'inizio le prime gocce toccarono la sabbia e i granelli si imperlarono scivolarono via prese a piovere più forte e io avrei voluto alzarmi e tornare in casa ma capii che a Conrad non andava e io avrei e io avrei